Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 22 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni, la proposta di legge che modifica il reclutamento del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Sono contento che la legge che era stata elaborata dalla prima commissione presieduta da Giacomo Bugliani è venuta in Consiglio e è stata approvata sostanzialmente nelle stesse modalità con cui l'aveva approvata la commissione. Questa consente di poter attingere per i direttori a figure che hanno maturato i loro requisiti, ovvero di posizioni esercitate a un livello dirigenziale per almeno 5 anni, non solo nella regione comune, nella pubblica amministrazione, ma anche laddove si è svolto funzioni di questa natura a livello universitario, a livello di magistratura, di avvocatura generale dello Stato. Insomma, una capacità di allargare e rendere più flessibile quello che è l'attingere, naturalmente con i requisiti dei 5 anni, con funzioni di dirigente o di equipollenti, per poter rivestire ruoli all'interno dell'amministrazione regionale. Del resto era importante questa legge anche perché dà una maggiore prefigurazione di ruoli a quello che la macchina regionale ora ha bisogno con il PNR, e con tutti quegli investimenti che, ad esempio con le risorse europee, parlo dei fondi strutturali, non solo del PNR, sarà possibile. Noi entriamo in una stagione importantissima, in quella in cui veramente la Toscana, come le altre regioni italiane, possono godere di una mole di risorse per investimenti come mai era accaduto e quindi va fortificata la macchina regionale. Sostanzialmente noi diamo la possibilità, come avviene in altre regioni, e come per legge nazionale c'è una precisa, ci sono una serie di precise disposizioni nazionali, si dà la possibilità alla Giunta di assumere in incarico dirigenziali personalità e figure che abbiano dei requisiti ben precisi, previsti appunto dentro la normativa nazionale, dalla ricerca alla docenza universitaria, ai procuratori e agli avvocati dello Stato, fino alle cariche della magistratura. E in questa legge poi abbiamo, via via che è a invarianza di bilancio per quanto riguarda il bilancio regionale, come ben precisato nell'ultimo articolo, abbiamo anche riprecisato alcune questioni sui contratti collettivi nazionali di lavoro riguardo ai dirigenti, e anche dato la possibilità, entro limiti precisi, come posto bene nel binario che il legislativo ci ha messo davanti, con delle percentuali precise di esterni rispetto agli interni, sia per quello sia per le figure relative agli staff della regione, riguardo alle figure dei collaboratori come autista. Quindi abbiamo fatto un lavoro molto serio e oggi possiamo dire che anche il dibattito in aula, dopo quello in commissione, è stato molto sereno proprio perché abbiamo condiviso un percorso e siamo arrivati alla fine di una lunga vicenda. Ed è giusto che tutti insieme siamo stati in grado di portarla in fondo. Il fratello d'Italia non ha partecipato al voto su questa proposta di legge perché noi la ritenevamo un mero adeguamento normativo che la regione toscana doveva fare, era una legge nazionale. Poi come sempre accade, quando la regione deve adeguarsi alla norma nazionale ci finiscono dentro di tutto di più, siamo finiti a parlare di autisti autisti piuttosto che di dirigenti per le aziende partecipate alla regione quando in realtà bastava fare un adeguamento normativo per il quale l'adeguamento normativo era doveroso quindi non aveva senso votare in maniera contraria ma non abbiamo nemmeno avallato una legge che doveva essere di dieci parole e è diventata di quattro pagine. Su questa proposta di legge che ha un contenuto fortemente tecnico perché siamo comunque andati a toccare alcune norme che riguardano prettamente il pubblico impiego nella fattispecie l'accesso alla qualifica di dirigente come anche quella di dipendente a tempo determinato. In realtà però nel contenuto e nella sostanza sono state recepite delle indicazioni per noi fondamentali. Il testo è uscito o migliorato, è un testo che a livello di qualità legislativa sicuramente ha visto un lavoro proficuo da parte della prima commissione un testo che ha visto oggi in aula ritornare su un punto che era estremamente critico e che era l'unico che era rimasto in sospeso e che riguardava l'assunzione a discrezione della giunta per quanto riguarda gli autisti a servizio. Al di là di questo il dato che dobbiamo segnalare è sicuramente che nel momento in cui andiamo ad intervenire con qualità nella normazione facciamo un servizio che sicuramente va a tutto vantaggio dei cittadini toscani e della nostra comunità. la qualità della normazione per noi è essenziale per avere norme veramente efficaci e non discriminatorie. Il Consiglio regionale ha approvato tre mozioni una all'unanimità e due a maggioranza per dire no alla struttura militare di Coltano la richiesta è un ripensamento e l'individuazione di soluzioni alternative da negoziare con il governo e le autorità militari. Noi apprezziamo la presenza e l'impegno e il lavoro dei carabinieri in Toscana e nella realtà pisana. Riteniamo però in sintonia con tantissimi di quelli che si sono espressi che questo intervento per l'impatto che produce sul territorio non debba essere realizzato all'interno di un'area protetta e quindi chiediamo tutto l'impegno possibile al nostro Presidente e alle altre istituzioni affinché si adoperino in un confronto con le istituzioni governative per cercare di evitare che vengano occupati questi 73 ettari all'interno del Parco di San Rossore per questa realizzazione. Io credo che questo potrà riuscire anche perché abbiamo molto apprezzato la disponibilità dell'arma dei carabinieri che ha detto di non voler comunque realizzare questo tipo di intervento contro le comunità locali e quindi con le mozioni che sono state approvate crediamo di rafforzare la posizione e l'impegno della Regione Toscana per andare in questa direzione. Noi intanto abbiamo detto fin dall'inizio che il Comune di Pisa deve essere coinvolto e deve essere centrale nella discussione tant'è che apprezziamo il fatto che stamattina il Sindaco di Pisa accompagnato anche dall'Assessore all'Urbanistica e dal Presidente della Prima Commissione siano al tavolo dove si discute di questo intervento insieme alla Regione insieme all'arma dei carabinieri quindi è un passaggio che riteniamo essere obbligato ancorché opportuno. Dopodiché pensiamo che proprio coinvolgendo il Comune di Pisa il Sindaco sarà in grado di individuare una proposta che possa tener conto di due interessi principali uno quello di salvaguardare l'ambiente e un intervento che possa essere in qualche modo troppo invasivo in un'area importante come l'area di Coltano dall'altra parte però salvaguardare il fatto che il Comune di Pisa possa ospitare un centro di eccellenza dove saranno appunto convogliati tre reparti di eccellenza fondamentali che sono un orgoglio nazionale quale il Tuscania, quale il GIS e quale il reparto dei carabinieri cenofili a cavallo quindi siamo felicissimi che questi tre importanti reparti possono essere stanziati a Pisa che daranno ulteriore appunto motivo di orgoglio alla nostra città con un intervento che deve sicuramente essere in qualche modo rivisto in qualche modo riallocato o contenuto rispetto al progetto iniziale Italia Avea per prima si è pronunciata contro la realizzazione di questo intervento nel merito alla localizzazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR non è sbagliato di per sé migliorare il posizionamento dei carabinieri fare un intervento importante ma bisogna decidere dove farlo come farlo passare da 53.000 m2 a 730.000 m2 in un parco come quello di San Rossore è una speculazione diciamo edilizia pubblica in un ambiente che deve essere invece tutelato promosso e qualificato si può condividere dove fare questo intervento meglio se farlo dove ci sono degli opifici dismessi che possono essere recuperati o dove ci sono dei locali abbandonati ma sicuramente non in un parco regionale che è famoso nel mondo per il proprio pregio di carattere ambientale quindi siamo contrari bene l'approvazione del nostro atto per dare forza al Presidente Gianni per contrastare questo intervento così come è stato presentato questo progetto è apparso immediatamente irragionevole per i volumi e per come è dislocato qualcuno parla infatti in aula di un'area marginale del parco ma si tratta in realtà di un'area vocata a agricoltura biologica e soprattutto un importante cuscinetto tra il tessuto sociale ed economico del territorio e il parco il parco regionale il fatto che questa proposta sia stata calata in maniera così improvvisa dall'alto non è piaciuto sicuramente agli abitanti neanche alle istituzioni e la Regione Toscana ha fatto bene a cercare una soluzione alternativa anche perché si andrebbe a parlare di 73 ettari di terreno vergine ad alto valore ambientale a fronte di quello che dovrebbe essere il gancio evocato quindi la bonifica di 5 ettari anche meno di un'ex stazione radar quindi l'irragionevolezza anche a fronte dei molti immobili dei molti edifici abbandonati nei dintorni è evidente tanto più che appunto la presenza militare a Pisa è sempre stata forte e ha bisogno di una razionalizzazione anche per quanto riguarda gli spazi che ospitano perché possano davvero sì essere quello che l'Europa anche chiede delle caserme più verdi quindi con un risparmio energetico e con una sostenibilità ambientale maggiore questo deve essere fatto e deve essere fatto di concerto col Ministero della Difesa ma appunto di concertazione si parla e non di imposizione a Borgo San Lorenzo nella settimana dal 9 al 15 maggio torna il Mugello da Fiava Festival con l'ottava edizione a Villa Pecori Giraldi la manifestazione all'insegna di letteratura teatro musica e arti varie per bambini e ragazzi è stata presentata in consiglio regionale il motto quest'anno è mostro non ti conosco e i tanti laboratori previsti dal programma intratterranno classi provenienti da tutta la provincia fiorentina le tante iniziative tra cui Mugello e Fiava ci danno il segno della ripartenza quella vera quella che ci aspettavamo è una Toscana in fermento e questa iniziativa però per me è qualcosa di veramente importante importante perché parla ai ragazzi alle ragazze ai bimbi alle bimbe perché crea la cultura della lettura in un tempo in cui tutto questo troppe volte viene dato per scontato insegnare i ragazzi a leggere farli avvicinare a questa forma di arte credo che sia compito delle istituzioni quindi grazie davvero alla vice sindaca Becchi per aver voluto organizzare qui in consiglio regionale questo momento grazie a Chi Cura il Festival a Serena Panzani grazie davvero a tutti ci saranno tante bimbe e tanti bimbi che saranno i protagonisti di questi eventi e credo che la Toscana deve ripartire proprio da loro è l'ottava edizione dal 9 al 15 di maggio a Villa Peco di Giraldi a Borgo San Lorenzo un'iniziativa dedicata ai libri e ai libri per i più piccoli dove ci saranno spettacoli di teatro danza musica ma anche tante letture ha tante possibilità di laboratorio verrà sfruttato il nostro museo dei bambini che si trova all'interno di Villa Pecori e ci sarà l'opportunità di conoscere il mondo della letteratura questo è un festival che fa parte del patto per la lettura della Toscana è un festival importante che negli anni è cresciuto e ha avuto molto risalto all'appoggio anche delle iniziative legate al mondo della Mucchi quindi legate diciamo alle fattorie del nostro territorio è un'iniziativa che finalmente torna lo dico con gioia finalmente torna davvero nella sua dimensione originaria dopo due anni di stop avremo circa 2000 bambini che vengono dalle scuole a partecipare ai nostri laboratori e finalmente possiamo riaprire la villa possiamo riaprire il parco con diciamo con quello che era il programma originario che due anni fa ha fatto tanto crescere il nostro festival è un programma molto ricco adatto a bambini proprio piccolissimi ma anche ad adulti quindi un pubblico da 0 a 99 anni nello specifico avremo tanti laboratori di lettura con al centro il libro letture animate incontri con l'autore Silvia Serreli Alessandra Sala avremo Simone Frasca avremo Teresa Porcella e anche altri autori magari locali ma non per questo meno importanti quindi il libro al centro dell'attenzione più tutta una serie di letture di libri in lingua una bibliotenda che ospiterà libri scritti in lingue in tutte le lingue del mondo praticamente con lettori madrelingua che leggeranno avremo degli appuntamenti con il progetto Leggere Forte la lettura a voce alta e poi avremo tutta una serie di appuntamenti musicali con i concerti di fine anno dei vari saggi delle scuole di musica avremo l'inaugurazione a cura anche delle scuole proprio il giovedì con l'apertura al pubblico mentre dal lunedì al venerdì avremo a Villa Pecori oltre 2000 bambini che partecipano a Mugello da Fiabia e ai laboratori che vengono proposti si va dalla creazione di scacciamostri alla realizzazione di acquerelli varie tecniche anche pittoriche Mugello da Fiaba è anche un festival della creatività quindi di arti varie il sabato sera uno spettacolo bellissimo di Burattini un cappuccetto rosso molto alternativo che è in prima nazionale per Mugello da Fiaba e poi la domenica un momento proprio per famiglia è il picnic di Mugello da Fiaba per cui in collaborazione con Mucchi Centrale del Latte avremo questo panierino che permetterà alle famiglie di godersi anche il parco di Villa Pecori un parco bellissimo nel quale si può stendere tranquillamente la coperta e fare appunto un picnic godendosi poi tutto il resto fino al gran finale della domenica pomeriggio che vedrà un vero e proprio raduno di mostri mostri un po' particolari un po' previsti un po' da tutta la provincia ciao